in questa tredicesima edizione di questo prestigioso premio io non ho più che ringraziare tantissimo a Marmo Mac e a Piva Marmi e a tutti loro devo sottolineare la generosità della giuria e il mio ringraziamento per tutti loro questo premio è prestigiosissimo non è perché sono premiato ma sempre questo premio di questa fiera hanno stato molto molto prestigiato e per questo sono molto onorato siamo in un mondo dove la comunicazione è veramente importante il mezzo principale ora è l'ordinatore webpages, flickers, facebook, twitter tutti loro conosce pietra è un materiale timeless direva un inglese fuori il tempo è eterno eterno avanti ora e domani la pietra è magnifica ciao 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 ciao